Palla a terra, palla giocata sopra la testa di Fontana, contropiede velocissimo da Alicese, ecco Umeroschi, recupera palla ancora Umeroschi, al limite dell'aria il tiro di Umeroschi, svirgolato, prima occasione contropiede della formazione ospite con il tiro di Umeroschi. Il retro passaggio ancora per Arlone, Arlone butta a pallone in mezzo per Umeroschi, 1-2, proprio con il numero 11 Porcelli, buona parata di Zenoni, non è contrastato da Zani, regolarmente francese, palla per Marco Fernandez, si invola Marco Fernandez verso l'area di rigore, il tiro in diagonale, il diagonale di Ferralis, Umeroschi lo salta, palla sul mancino, tiro in diagonale, strozzato per fortuna, ingenuità di Fontana. Letto Colombo batte questa punizione proprio per il francese, lancio lungo a cercare Rikipoi, si infila Rikipoi, è bravo il portiere, è quaglino, per un attimo avevamo avuto l'illusione che avesse steso Rikipoi. Ancora lancio lungo per Umeroschi, regolare la posizione per il guardia linea, rientra sul desto Umeroschi, il tiro in diagonale. Come al solito si può dire che è un arbitraggio all'inglese, palla ancora per Carnaroglio, retropassaggio, Cugliandro riesce a rimpallarlo al primo momento, poi c'è un tiro, una deviazione. E c'è il vantaggio di Comotto, incredibile mischia. La Licese si porta in vantaggio al Curotti di Domodossola, serve ancora sulla sua Cugliandro, prova a salire ancora sull'auto di destra Juve Domo. Cugliandro ancora per Francese, Francese in profondità, per Rikipoi, palla di Rikipoi, interessante per Cugliandro, buon inserimento di Cugliandro, occasionissima divorata dalla Juve Domo. Compattata, Soncini sbaglia il controllo, palla che arriva ancora a Porcelli, conclusione al limite, Zenoni ci mette la punta delle dita, mette fuori. Palla ancora per Rikipoi che salta, versario. Si tuffa, Soncini, ma Quaglino si ritrova la palla nelle mani e la palla invece rimane nei piani di Arlone. Ancora l'azione interessante della formazione Granata, Porcelli serve Carnaroglio, palla che finisce fuori per una deviazione probabilmente occasionissima. Prova a liberarsi di un avversario, la difende molto bene, prova ancora l'azione personale, palla per Fernandez, la palla era buona. Il tiro in diagonale, buona azione sull'asse, Soncini, Fernandez. Per l'alicesa e ancora Carnaraglio si rimpalla con Soncini, il tiro poi d'esterno di Arlone. Meriterebbe, finta di Fernandez, buona la palla per Rikipoi, viene segnalato un fuorigioco che questa volta non c'era. Il direttore di gara, scusate, lungo lancio di Letto Colombo ancora, Marco Fernandez salta in mezzo a due, Rikipoi difende a sfera, Marco Fernandez servito da Soncini, tiro di Marco Fernandez però è debole. Ministro, palla nei piedi di Puzzello, i saltatori della Juvedoma in aria con Soncini, Soncini, palla di Puzzello, lunga su secondo palo. Soncini colpisce il palo, un rimpallo, forse con la mano un difensore, reclamano i giocatori della Juvedoma. Tutto regolare per il direttore di gara. Calcio in punizione nei piedi di Letto Colombo, palla buttata nel mezzo, colpo di testa e c'è la rete all'ultimo minuto di Domenico Puzzello. Bellissimo colpo di testa, bellissima rete di Puzzello, un pareggio veramente meritato. Grazie.